Ciao Quanto è il massimo di video che fai? Eh, 15 minuti! Ho detto 3 secondi a far questo video di challenge Perché vinco subito Vado a prendere la palla Ecco, comparirò subito Vabbè Siamo contro luce per me però Se non mi vedete però Che figlia Siamo contro luce qui In ventana No, posso fare un cambio Posso fare un cambio Poi vedere il suo campo Nonna! No! Scusate ragazzi Scusate ragazzi Ragazzi, oggi è il giorno Che farò l'intervista a mio nonna Che c'era mercoledì sul canale Pronti eh Vabbè Falleggi challenge Falleggi challenge Se consiste In Abbiamo Abbiamo 6 Abbiamo 6 Alla prima 1 La seconda 2 Alla terza 3 Alla quarta 2 Alla quinta 2 E la prima Alla terza 1 Il maggiore risultato Cioè il record È stato 6 No è stato 4 Quindi in me Il record è 4 Quindi il record è 4 Però quindi Abbiamo 6 possibilità 6 possibilità E ragazzi Buona visione No Non so più il video Iniziamo subito 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 8 La 7 12 Challenge Ma da prima Le nonno 3 2 1 Via 3 1 2 2 3 2 3 3 3 4 5 5 4 6 8 6 7 8 8 9 9 Nonna, grande! Niente di che, niente di che! Niente! Nulla! Venta! Nonna! Niente! Niente! non mangio questo mangio la colla e rinunciamo la capola challenge facciamo tre minuti di libertà ora si inizia il capola challenge inizia la colla e rinunciamo la challenge 3, 2, 1, 2 6, 6 1, 2, 3, 4 6 6 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 7, 12 7, 12 9 20 Mi vedo dalla quella dana in bocca 3 solamente ultimo no, solo a 4, questo è a 5 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 e basta, è finito ora nomino è arrivata la nomination nomino di Shared Gaming voglio fare un mio un mio amico nomino che lo vedrà me lo mandi su WhatsApp tu Renato Montontino e lo deve fare Steppi che non lo farà mai però io lo nomino sono scelta bene ragazzi ciao no non so la la gola farvi vedere la visione a totas ciao ricordo mercoledì cioè lunedì lunedì uscirà il blog e mercoledì uscirà un altro vlog che sarà intervista a mia nonna che registrerò tra poco mercoledì è il video proletico dei tutti i canali quindi ciao muori mosca ah non si chiude questa qua insomma è la mia vita questa qua buoni 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 buoni